Sì, ho avuto la sfortuna di incrociarli proprio quando si sono fermati e l'impatto non è stato sicuramente dei migliori, di fatti abbiamo cominciato a capire chi fossero e quindi abbiamo grazie alla Mimma e a Nanni abbiamo fatto partire il Tam Tam che portasse a capire chi fossero. Ecco, magari forse era meglio fermarli un attimo con la Digos e andare veramente a capire in caserma perché uno può venire qua e dire io sono il presidente dell'Arezzo, insomma perché altrimenti uno qualsiasi per strada può farlo, cioè mi sembra una roba veramente ai confini della realtà ma penso che quest'anno forse, spero che abbiamo visto tutto con questa e che possiamo mettere veramente una parola fine, un punto e cominciare un terzo campionato che sarà totalmente diverso dagli altri. Pensavamo una cosa impossibile, invece ragazzi oggi voglio andare dentro e dire abbiamo vinto una prima battaglia, stanno insieme, grazie a tutti perché grazie comunque a voi, alla tifoseria e all'amministrazione e la nostra voglia di rimanere fino in fondo sta dando la possibilità di giocarcela. Ecco, quello che volevamo era, come tutti voi, che sia il campo a decidere se dobbiamo andare giù o no, se dobbiamo rimanere in questa categoria, se la meritiamo o no e quindi è questa la cosa più bella, la gioia di poter far calcio. Chi ama questo sport vuole la partita, vuole il campo, non vuole questa gente che viene qui e dice di spostare lo stadio, lo spostiamo addirittura, vabbè, folle, quindi chiudiamo veramente con tutte queste cose, si è parlato tanto, io infatti ho fatto solo conferenze per parlare di tutte queste cose qui e sono stanchissimo, voglio solo il campo e voglio che voi mi giudichiate, la gente mi giudichi e mi critichi o mi faccia delle lodi per quello che può essere il campo, ve lo vogliamo tutti e aspettiamo solo questo. Saranno delle difficoltà, perché insomma andiamo a incontrare una squadra top che sta bene, avendo un grosso cammino con Sottili, un allenatore che conoscete benissimo, che nello scorso qua ha fatto molto bene e quindi è chiaro che sarà una gara molto difficile. Ma domani dobbiamo essere bravi proprio per gestire questa disabitudine che ci potrà stare, essere compatti da un punto di vista tattico, intelligenti e buttare il cuore oltre l'ostacolo perché alla fine conterà soprattutto quello. Muscaldelli gioca domani, mister? Oggi lo valuto, non è al 100%, penseremo insieme a quale sia la cosa migliore per lui e per l'Arezzo, perché noi probabilmente conosciamo i risultati delle altre ma non sappiamo neanche quanti punti di penalità ancora dobbiamo avere, quindi penso che i vantaggi siano veramente pochi, anzi abbiamo avuto lo svantaggio di star fermi così tanti. Io credo che sia legittimo da altre società che magari stanno combattendo per non andare giù, pensare questo perché magari sono stati puntuali nei pagamenti eccetera, ma se abbiamo avuto dei banditi e noi a gestirci non è colpa nostra. Noi stiamo cercando invece di lottare, abbiamo una città alle spalle che ama questo sport, abbiamo della gente che lavora ogni giorno e è stata qui senza prendere le linee, dovrebbero essere da questo punto di vista più solidali. Capisco l'altro punto di vista, l'altro, ma per noi questa è una grossa molla motivazionale. Se sono più bravi di noi e hanno tutte le capacità, perché hanno allenatori e giocatori in grado di affrontare l'Arezzo e di batterlo, dovranno farlo sul campo. Questo per noi però è una molla in più, perché quando li affronteremo, quando ti parlo di battaglia totale intendevo questo.